Buongiorno, ben svegliati, ben ritrovati. Ben ritrovati soprattutto con Mattino 6, la rassegna stampa della nostra redazione in questo sabato 5 maggio, pronti per andare a vedere le principali notizie dei quotidiani locali, ma non solo, anche le prime pagine delle testate nazionali e sportive. Come di consueto nella prima parte spazio alle vetrine dei principali quotidiani, partiamo da quelli ovviamente di casa nostra con le quattro edizioni del centro. Come di consueto la prima pagina del centro di Pescara, questa è l'apertura cena al ristorante Quattro Intossicati. Successo a San Buceto, Blitz dei Nas al ristorante etnico, scoperte carenze igieniche. Ma in alto, la notizia che ieri un po' ha pervaso tutti i giornali e i telegiornali, anche il nostro, ovvero le due minacce di morte a Paolucci. La lettera con una pallottola e una lista di nome, l'assessore della sanità. La pista, secondo gli inquirenti, è vastese. Doppie indagini al politico, anche un'altra intimidazione arrivata su Facebook. Dunque non solo la bus con questo proiettile, arrivata proprio alla segreteria del suo ufficio, ma anche via web. Altre notizie che riguardano la politica. Il doppio incarico d'Alfonso svela il documento con cui dà il via alle dimissioni. E poi per la regione, finanziati i centri storici di 23 comuni abruzzesi. Leggiamo anche altre notizie. La fotonotizia che riguarda un grande ex del calcio, Platini in Abruzzo, un po' di relax giocando a golf. L'ex stella della Juventus a Miglianico, Casalbordino e Guilmi. Per quanto riguarda invece lo sport in senso più stretto, oggi a Novara c'è il Pescara. Carica Pilon, Pescara, fammi vedere chi sei. Oggi l'impegno a Novara, questo pomeriggio che ovviamente come tutti, come in ogni partita del Pescara, seguiremo con diretta stadio. A partire dalle 14.30 con i collegamenti prima della gara, con Paolo Nezzetti proprio dallo stadio Silvio Piola di Novara. E poi la partita e le interviste post, sempre tutto in diretta. Per la cronaca, sempre a Pescara, due chili di droga nella scatola dei cereali viene preso durante un controllo per il cinema. Milani, ecco il mio Flaiano Film Festival. Cambiamo edizione, andiamo sull'edizione aquilana che invece cambia apertura. Inna la guerra santa su Whatsapp. L'Aquila, immagini shock sul gruppo scuola dei figli del marocchino espulso. Insomma, si segue anche questa pista, c'è qualche timore per queste infiltrazioni di radicalismo evidentemente islamico. Nelle cronache, a Luco De Marsi, disabile, umiliato e terrorizzato dal branco. Le azioni filmate, coi telefonini e spedite anche sui gruppi ad Avezzano. La Hell Foundry lascia a casa 120 interinali. Non rinnovato il contratto, altra mossa che preoccupa i sindacati. Come leggiamo, la fotonotizia, quintali di merende illegali sequestrati nelle scuole. Blitz a Sulmone e Prato da Pelignia. I carabinieri forestali hanno sequestrato due quintali di panini farciti, pizzette focacce senza tracciabilità. Confezionati in una ditta e destinati a essere consumati nelle scuole. I blitz sono stati effettuati a Sulmone e Prato da Pelignia. Tra i sei multati figura anche una dirigente scolastica. Cambiamo edizione, andiamo sull'edizione di Teramo del Centro. Qui l'apertura è dedicata alla politica. Morra, il sociale è la mia priorità. Teramo al voto, il candidato del Centrodestra Unito si presenta. E poi rivivremo ovviamente la giornata di ieri con la presentazione di Gian Donato Morra, sindaco di Teramo. Fiumi di fango in strada, soccorso un dializzato. Questa la fotonotizia, il maltempo in città, ma non solo, anche su tutta la regione. Pioggia caduta ininterrottamente da giovedì ha creato non pochi problemi. I vigili del fuoco di Teramo hanno effettuato 15 interventi. Tra questi il soccorso a un paziente dializzato a contrada mezzanotte. Nelle cronache, l'albergatore denuncia, le cop offrono 3 euro al giorno per i migranti. E poi l'erosione a Villarosa, siamo dunque nel nord dell'Abruzzo, i balneatori spiaggia che è stata uccisa dalla burocrazia. Chiudiamo le quattro edizioni con l'edizione di Chieti Lanciano Vasto. Asili Nido, bloccate le iscrizioni. Chieti, il comune dà lo stop in attesa della privatizzazione ed è polemica. La fotonotizia è identica, ovviamente siamo a Miglianico e dunque non può che riguardare la visita di Platini al Miglianico Golf Club. Altre notizie nelle cronache lanciano picchi ai familiari e anche il cane. E viene allontanato con accuse di lesioni e maltrattamenti in famiglia e di animali, un 28enne. A Vasto, donna aggredita mentre passeggia sulla spiaggia. E' successo a Vasto Marina, la vittima, una signora che era andata sul lungomare dopo la colazione per una camminata. Cambiamo quotidiano adesso, andiamo sulle colonne del messaggero, o meglio sulla prima pagina del messaggero. Anche qui l'apertura è dedicata alla busta con proiettile a Paolucci, un plico anonimo indirizzato all'assessore della sanità intercettato ieri dalla sicurezza di Palazzo Silone. Le minacce motivate da scelte politiche, solidarietà dal Partito Democratico e dall'opposizione, ovviamente come è giusto che sia. All'Aquila, invece rottura nel centro-destra sugli immigrati Forza Italia, manda in minoranza biondi. In alto, il traguardo turismo del vino, la presidenza nazionale va ad un'abruzzese a Teramo, barriere telecamere, rivoluzione all'ospedale Mazzini. Serie B, il Pescara in campo a Novara per chiudere la pratica salvezza, pillone non sono ammessi, cali di tensione di spalla. La proposta shock a poveri e immigrati, le case sfitte. Scendiamo in pagina per vedere la fotonotizia. Genti d'Abruzzo, il difficile salvataggio, Pescara, la fondazione si accolla debiti e personale del museo, vana anche l'ultima iniezione di denaro pubblico, 90 mila euro messi sul piatto del comune. Adesso si profila una manovra ancora più onerosa per Palazzo di Città. Cronaca, i simpatizzanti dell'Isis traditi dai video a scuola, l'Aquila, prima segnalazione contro i due espulsi, partita dalla media di Paganica. A Pescara, sempre per la cronaca, due chili di droga nello zainetto, il Corriere finisce in manette a Chieti, invece quattro in ospedale dopo la cena cinese. Andiamo in provincia di Teramo adesso con il quotidiano La Città, cronaca in apertura, se non ti spogli ti taglio la faccia, ex compagno stalker a processo per aver violentato una teramana dopo la fine della relazione. La fotonotizia, strade come fiumi e poi vedremo anche non solo in provincia di Teramo ma anche in provincia di Pescara alcune immagini che arrivano dall'area Vestina. In basso, Tegola da un milione sui conti rosetani, perso il contenzioso con il CIRSU per le tariffe dei rifiuti. A lato, Morra promette ottimismo e dedizione totale per Teramo, la presentazione del candidato del centrodestra e poi, veleno da Di Stefano, non gli basterà tenere nascosto Brucchi. In basso, strisce blu, lo spiraglio per Terco per trovarsi un partner privato. Queste sono le prime pagine dei quotidiani locali, adesso andiamo sulle prime pagine dei quotidiani nazionali per vedere quali sono le principali notizie dall'Italia e non solo. È Corriere della Sera, il fondo USA conquista, team vittoria di Elliot e CDP, Cassa Depositi e Prestiti, Calenda. I francesi hanno fatto malissimo il controllo a Singer, lo psicologo uomo da 35 miliardi di dollari, la sconfitta tutta di Vivandi. La fotonotizia ciclismo che è partito da Israele, da Gerusalemme, prima tappa, la cronometro a Dumoulin, il vincitore dell'anno scorso, ma Gerusalemme in rosa per la festa del giro. Questa probabilmente è la notizia più bella, più interessante di questo inizio giro, poi chi vincerà lo vedremo strada facendo. Per la politica Salvini al Movimento 5 Stelle propone un governo a tempo insieme, unità a rischio, vertice nel centro-destra, il sondaggio tra i leader Di Maio e Terzo. Cambiamo quotidiano, andiamo sulla Repubblica, dal Quirinale un no a Salvini, Lega e 5 Stelle attaccano l'Europa, Grillo rilancia il referendum sull'Euro, PD, Renziani sfidano Gentiloni, faccia il segretario del partito. E poi il racconto, camere ferme, lavorano in 67, sono 67, 40 deputati e 27 senatori, gli unici che lavorano in Parlamento. Un mese fa sono stati designati nelle commissioni speciali per l'esame degli atti del governo, un organismo che si è riunito finora 12 volte, considerando che sono quasi mille i parlamentari in 67. Insomma, la media non è granché. Il reportage nella grande foto, lampi di occidente a Teheran, sognando un Iran normale. Vedete questa donna che ovviamente utilizza uno smartphone tipico della cultura più occidentale che è iraniana in senso stretto, ma evidentemente le contaminazioni stanno arrivando persino in Iran. In basso, vent'anni dopo Sarno, ricorderete l'allagamento di Sarno di 15 paesi campani, il paese delle 614.799 frane, dove il dissesto idrogeologico uccide tre persone al mese. Poi Telecom, il sorpasso di Elliot, batte Vivandi e prende il CDA, confermata la fiducia a Genish, decisivo l'intervento di Cassa Depositi e Prestiti. La stampa, braccio di ferro sul governo di Tregua, torna Grillo e smentisce la linea di Di Maio, necessario un referendum sull'Euro, la rivolta dei partiti contro il tentativo di Mattarella. Salvini, esecutivo di scopo fino a dicembre. Nel PD l'allarme di Veltroni, siamo al limite. La fotonotizia, mafia e quattro lunghi mesi di sangue. L'emergenza dimenticata dei delitti della criminalità organizzata già 20 all'inizio dell'anno. Andiamo sul fatto quotidiano che definisce l'eventuale accordo temporaneo, un governicchio da spiaggia. Pronto un esecutivo elettorale che porti il paese verso nuove elezioni, camere sciolte a luglio e voto a settembre. No di 5 Stelle e Salvini all'inciuncio di Tregua, sognato da Renzi e da Berlusconi. In alto la Sicilia dei miracoli, assunti 16.000 precari, illusione, regione e bancomat, ma senza concorso però non si può. L'Europa boccia il TAP su proposta dei 5 Stelle, il gasdotto, il documento di Viola, prende 539 voti a favore. E poi il Nobel scandalo, da noi avrebbero coperto tutto, Dacia Maraini molesti e stop al premio. Il manifesto alto forno e con l'immagine emblematica, in un clima infuocato, si apre il forno del Quirinale, che in realtà è una provocazione perché adesso è Mattarella costretto a mettere la faccia su un governo tecnico a rischio di sfiducia per chiudere in autunno una legislatura mai iniziata. Di Maio e Grillo sulle barricate, Salvini verso il nord, Renzi e Berlusconi verso il sì. Scendiamo in basso, Elliot e l'Italia battono Vivandi nella battaglia Telecom, sconfitti i francesi. Il controllo al fondo statunitense, l'analisi di Vincenzo Vita, ma non è la vittoria del mercato. Il fondo speculativo Elliot ha vinto la partita dell'Assemblea, ma è stata decisiva, come abbiamo visto, cassa depositi e prestiti. Dunque, fino a un certo punto si può parlare di vera e propria vittoria del mercato. Il messaggero, offerta di Salvini, dubbi del colle, il leader leghista, governo con Movimento 5 Stelle fino a dicembre, no a premier tecnici, ma Di Maio chiude, Mattarella attende i numeri e prepara l'esecutivo di tregua. Grillo rilancia ora il referendum sull'euro. Ma i veri problemi probabilmente per Di Maio sono dal punto di vista del gradimento, perché la fiducia in Luigi Di Maio, ovviamente, cala del 10%. Come vedete, andiamo da una parte all'altra. Partito Democratico, l'ultima carta di Matteo, pardonne, andiamo in Casalega, maggioranza larga. L'ultima carta che tiene in serbo Salvini con il suo centrodestra è quella della ricerca di una maggioranza larga. Una strada da percorrere entro martedì. Format barricate, i grillini lanciano la competition con il carroccio. Il pezzo di Mario Aiello. Guardie svizzere in crisi, niente meno. Mancano le reclute, Elmin, PVC, ma stipendi bassi. Il Vaticano non copre l'organico. Telecom, il CDA a Elliot, che vince su Vivandi, ma l'AD resta Genish. Al fondo USA, 10 consiglieri su 15, decisiva Cassa Depositi e Prestiti, così cambia la rese. Novità da Sparkle e Inuit. Il tempo, pronti via, ovviamente qui siamo sulle questioni prettamente romane e laziali. Ecco la stangata di Zingaretti, governatore della regione, la regione delle tasse. Il governatore dimentica le promesse elettorali, altro che riduzione delle imposte. L'aliquota IRPEF va ai massimi storici. E poi per il governo, governo in alto mare, il Waffa di Grillo, stavolta arriva in testa a Di Maio. UEFA ridicola, processo a pallotta per le dichiarazioni dopo il ritorno di Roma-Liverpool. E poi invece, amatrice a Dio, Pirozzi preferisce la poltronissima, lascia il comune per la Pisana. Libero quest'anno, niente Nobel, è inquinato dai porcelloni. Sospeso il premio per la letteratura, l'Accademia di Stoccolma si autocensura per le accuse di molestia al marito di una giurata. Meno male, così i parrucconi scandinavi non ci molesteranno più con i loro poeti. Da quattro soldi. E poi, per la politica, Di Maio, il più amato dai fetenti, il Movimento 5 Stelle non lo regge più, Grillo compreso, Del Vecchio, il più amato dai dipendenti, regala ai suoi operai 2.235 euro a testa. La verità, la pattuglia dei responsabili, tra virgolette responsabili, che può far partire il governo di centrodestra. Lega Forza Italia e Fratelli d'Italia chiedono l'incarico per Salvini, ma da sole le tre sigle non hanno la maggioranza. Gli altri voti arriverebbero da gruppo misto e minoranze linguistiche, però anche dal PD e soprattutto dal Movimento 5 Stelle. Il corteggiamento è iniziato, ci sono anche nomi e numeri. In alto altre notizie. Franceschini, il ministro delle trame, è pronto a tradire tutti per il potere. E poi, affirma Mario Giordano, D'Alfonso, il politico democratico con il sedere incollato a due poltrone. Trova spazio anche sulla verità la questione del doppio incarico del governatore della regione Abruzzo. Referendum sull'euro, la bomba di Grillo colpisce Di Maio. E poi invece lo Stato si riprende Telecom, appoggiato da Cassa Depositi e Presti e Banche. Elliot piega a Bollorè, ora lo scorporo della rete. Andiamo avanti. Il secolo XIX, governo di scopo, Salvini apre solo fino a dicembre per arrivare alle urne. Il colle valuta nuovi nomi. Il mattino, Salvini, l'ultima sfida a Di Maio, governiamo insieme fino a dicembre. Dubbi del Quirinale, leader leghista contro l'esecutivo di Tregua. Lo scandalo molesti e travolge anche il Nobel, salta il premio letteratura 2018. In alto le questioni del Napoli, l'affondo di De Laurentiis contro Sarri, Napoli spompato, altro che arbitri. L'accusa a Firenze senza benzina, un errore aver fatto giocare sempre gli stessi. Il futuro, se Maurizio se ne va, vuol dire che non ci crede. Io però guardo avanti. Il sole 24 ore. Qui ovviamente la notizia di Telecom conquista l'apertura. Elliot conquista Telecom. Fulvio Conti in pool per la presidenza. L'unidì le deleghe dell'amministratore delegato Genish. Casa depositi e prestiti schierata con gli americani, pronta a salire ancora nel capitale di Telecom. All'assemblea, il fondo statunitense vince con il 49,84% dei voti contro il 47,18% di Vivandi. E il titolo balza del 2%. Ma ci sono anche le analisi che possiamo vedere di Paolo Bricco. Quell'intreccio tra politica ed economia e poi la quadratura degli interessi convergenti. Politica internazionale perché l'Argentina ripiomba nella crisi valutaria. America Latina tassi al 40% e inflazione al 30% crolla il peso. Nord-Ovest più imprese, Nord-Est più ricavi. Questa è l'analisi. Secondo l'analisi Cerved Confindustria e piccole e medie imprese del centro-nord sono il lento ma progressivo miglioramento. Robiglio, Vincenti, le aree dove aziende, sindacate e istituzioni condividono le strategie. Per la politica, brevemente, Lega e 5 Stelle rispolverano i toni anti-europeisti. Salvini, governo di sei mesi, in attesa delle decisioni del Colle. Vediamo adesso le prime pagine dei quotidiani sportivi partendo da Gazzetta dello Sport. Io, mister Scudetto, intervista a Douglas Costa. Nella mia carriera ho già vinto sette campionati. Grazie al futsal e alla fede in Dio, nessuno è più veloce di me. Trionfo con la Juve e mi faccio il quattordicesimo tatuaggio. Il Milan ha qualità, noi abbiamo i campioni. Ma oggi la Juventus gioca contro il Bologna, gioca di bala con il Bologna, Allegri sfida le polemiche e dice sono solo delle commedie. Per il Napoli, carica de Laurentiis, Napoli più forte con o senza Sarri, sono già pronte le alternative. In alto, giro e rigiro, ma è sempre evidentemente Tom Dumoulin. La crono rosa di Dumoulin in una Gerusalemme in festa. Il vincitore dell'anno scorso domina la prima tappa in Israele. Frum cade nella ricognizione, prende 37 secondi. Aro ancora in rodaggio, ne prende 50. Il commento di Pier Bergonzi, ovviamente grande firma del Gazzetta dello Sport, del ciclismo, Gazzetta dello Sport. Magia chiama magia, da Tom a Tom. Dumoulin, navigatore olandese con un debole per la puntualità. Riconosce ogni curva di Gerusalemme per volare a rivestire la maglia rosa. Oggi la seconda tappa, peraltro. Ma ieri erano 69 anni dalla tragedia di Superga, commozione a Superga. Cairo, presidente del Toro, il grande Torino, è la nostra storia. Inter avanti con Spalletti fino al 2021. Il progetto nero-azzurro prosegue con il tecnico toscano. Ha convinto il club, presto prolungherà il contratto. La conquista di un posto in Champions non sarà decisiva. Per il Milan, Europa e Coppa Italia. Ringhio, match verità, poi tre o quattro. Top player. Corriere dello Sport. L'intervista al presidente del CONI, Malagò, che dice Cambiamo il calcio, Malagò esclusivo. Seconde squadre, siamo già pronti. Subito il VAR anche in Europa. Alla Lega serve una governance. Basta fazioni. Nicchi, non voglio fare polemica. In alto, Sarri e arbitri. Tutta la verità, il tecnico. Spero che resti le parole del presidente. Ma guardo in giro. Esiste ancora la sudditanza verso la Juventus. In basso, Higuain di Bala per volare a più sette. Stasera Juve Bologna. Giro d'Italia, il primo urrà è di Tom Dumoulin. Chiudiamo con Tutto Sport. Che fine faranno stasera Juve Bologna? Domani Napolitorino tra Scudetto e futuro dossier mercato. E poi la lista di tante altre squadre. In ottica estate, tra poco si apriranno i campionati e si aprirà la lunga carrell del mercato. In alto, ovviamente, il grande Torino. Per sempre, commozione a Superga. 69esimo anniversario della tragedia. I tifosi incitano Belotti. Resta con noi. In basso, Dumoulin è subito padrone del giro. Queste le prime pagine dei quotidiani. Noi ci fermiamo. Adesso spazio alle previsioni del tempo. Pubblicità. E poi rientriamo per vedere i quotidiani di casa nostra. Seconda parte di mattino 6. Adesso entriamo all'interno dei quotidiani di casa nostra per vedere le principali notizie. Ripartiamo dal centro e con le due minacce di morte all'assessore Silvio Paolucci. Proiettile in busta con la scritta Attento alla vita è un post su Facebook. L'anonimo fa anche altri nomi. La pista è vastese. Sarà disposta alla scorta. Attacco politico è un segnale evidentemente preoccupante. All'assemblea pescara di Pietrantonio che dice noi del PD non ci facciamo intimorire. E questo è un passaggio della minaccia a Paolucci. Fa sapere che ti attrezzo un bel giro a vedere se la pallottola la merita in busta o direttamente in fronte. Da Di Pangrazio le reazioni ai 5 Stelle. Ovviamente la solidarietà non può che essere trasversale. La vicinanza dei sindaci Menna, Pupillo e Di Primio è l'analisi del Dem d'Alessandro. Notizia questa che ovviamente trova l'apertura anche del quotidiano Il Messaggero. Le minacce all'assessore busta con proiettile per Paolucci. La pista della sanità. I documenti all'esame della Digos contengono insulti e accuse politiche. Solidarietà da PD e maggioranza. È il frutto di un clima di odio. Peraltro ieri a caldo ha parlato l'assessore Silvio Paolucci. Lo ascoltiamo nella sua breve dichiarazione. Intanto sono in corso degli accertamenti per cui non commento mai quando ci sono dei rilievi in itinere. Di certo infastidito, certamente sì. Preoccupato, spero assolutamente di no. Credo che sia un gesto individuale, sconsiderato, che nulla ha a che vedere con l'imbarbarimento anche della volta e del confronto politico, che pure c'è, che riguarda l'utilizzo di aggettivi e sostantivi a mio avviso sbagliati. Ma credo che questo però non sia assolutamente da ricondurre a questo tipo di confronto, bensì a un gesto di un imbecille. Sessore, pensiamo che lei non ha letto la lettera? No, perché ci sono dei rilievi in corso. Poi, insomma, adesso chi di dovere saprà quando e come informarmi. Andiamo avanti nella lettura dei giornali. Parliamo del doppio incarico. D'Alfonso Smarcatutti ha già scritto al Senato il 28 marzo firmato l'atto che dà il via all'iter per dimissioni dalla regione, come lui, altri 150 casi. Ma nel mio caso, dice, non c'è ancora un conflitto di interesse e qui vediamo proprio il documento con cui Luciano D'Alfonso ha dato il via all'iter per le sue dimissioni dalla regione Abruzzo. che la vicenda del doppio incarico, come vedete, ieri ha suscitato anche la petizione, ha fatto promuovere la petizione online da parte dell'ex deputato Di Stefano, che si candida a presidente della regione. Ora basta, D'Alfonso scegli, questo è l'hashtag scelto proprio da Fabrizio Di Stefano per questa petizione online, anche in questo caso. Vediamo il servizio. Noi siamo diventati la regione Zimbello, dovunque se ne parla, le Iene, strisce la notizia, la radio ne parla ieri sera, insomma sempre per evidenziazioni negative, non certo positive. La dignità dell'Abruzzo va salvaguardata, ma va salvaguardata anche la legalità, perché nel contempo D'Alfonso sta portando avanti una serie di nomine, di incarichi e di concorse, procedure concorsali, tra l'altro a mio avviso assolutamente irregolari, perché i rendiconti su cui si basa sono falsi, non sono corretti, in quanto a mi risulta che quantomeno i rendiconti delle ADSU non sono stati riportati adeguatamente. Tutto questo genera un clima di illegittimità nella regione che va sanato. Noi crediamo che non basta adesso andare magari in consiglio a bocciare la relazione della commissione competente che dice che D'Alfonso potrebbe rimanere a fare entrambe le cose, occorre un'azione più forte. Quell'azione che i Cinque Stelle fecero quando allora tolsero lo scranno a D'Alfonso che era legittimamente presidente di regione, perché non lo ripetono oggi che non è più legittimamente presidente di regione? Questa è la nostra domanda. Per far questo io propongo una raccolta di firme online con l'hashtag Ora basta, D'Alfonso scegli, decidi che cosa vuoi fare. Vuoi restare a fare il senatore? Fallo. Vuoi restare a fare il presidente? Fallo. Ma non puoi gettare fango e ironia e derisione sulla regione Abruzzo con questo tuo pervicace atteggiamento. Andiamo avanti. Pagina della regione Abruzzo del centro, regione, fondi a 23 borghi. Ecco l'elenco dei lavori. Ogni comune avrà a disposizione 140 mila euro per gli interventi di recupero. Il governatore e i primi cittadini non perdete tempo. Fate subito gli appalti. Qui c'è la foto di gruppo dopo la firma delle 23 concessioni con il presidente D'Alfonso. Per la prevenzione è pronta la mappa del rischio in 138 comuni. Comuni in basso, prevenzione ma dei tumori, firmato l'accordo in un anno oltre 7.809 casi. La regione e la Lilt in campo per una grande campagna sanitaria. Andiamo avanti. Pagina di Pescara. In pieno centro, cronaca, due chili di eroina nascosti nella scatola dei cereali. La droga è stata trovata dai finanzieri nello zaino di un trentenne durante un controllo. Il giovane albanese è stato arrestato. Lo stupefacente avrebbe fruttato circa 160 mila euro. Gli investigatori si sono insospettiti per il peso eccessivo della confezione contenuta nella sacca. Dall'ingente quantitativo si sarebbero ricavate circa 8 mila dosi di eroina per la piazza pescarese. Ma non solo a Pescara. I carabinieri incastrano due spacciatori. I militari di penne hanno seguito i tossicodipendenti locali arrivando a due rom di Fontanelle. Anche sul messaggero, come vediamo, troviamo la notizia dedicata ai due chili di eroina nello zainetto. Un corriere albanese fermato in pieno centro dalla finanza. La droga era nascosta in una scatola di cereali per la colazione. Una partita da 160 mila euro destinata con tutta probabilità alle famiglie che controllano le piazze di spaccio di Rancitelli. Torniamo sul centro. Andiamo avanti. Ancora cronaca. Incatenò la compagna. Adesso torna libero. Il giudice non convalida l'arresto ma gli vieta di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla ex. Il raggiro poi scoperto dalle iene, il caso di Nadia e Bartolo. La procura chiude il cerchio. Indagini concluse dopo il blitz della polizia con le telecamere di Giulio Golia. Il 35enne smascherato e indagato per anni avrebbe spillato dei soldi alla coppia. Il capo dell'ammobile di Pescara promosso Murriana lascia Pescara e ringrazia i suoi. Andiamo avanti. Nuovi sversamenti delle fogne nel fiume. H avvisa il comune. Emergenza dopo la pioggia ma i divieti sono già scattati. Il livello migliorerà con il potenziamento del depuratore. e oggi il sindaco fa un sopralluogo alla diga foranea. In basso, sempre a Pescara, via Bologna. Dubbi sul supermarket, la commissione favorevole, ma la legge elettorale fissa dei vincoli. Riviera chiusa, traffico in tilt, altra giornata di disagi per il cantiere. Lunghe file in tutte le strade del centro per il tratto chiuso per i lavori. Qui siamo già a Montesilvano e allora leggiamo, continuiamo a leggere la pagina di Pescara sul messaggero. Genti d'Abruzzo, scompare la SRL, l'omonima fondazione attraverso la procedura di fusione si è accollata ai debiti e anche il personale in carico alla società. Vano anche l'ultimo tentativo di salvataggio con i 99 mila euro erogati dal comune per Cascella e Museo del Mare. mai aperto. A Pescara, l'auto della scorta di Falcone. Questa è la teca con il rottame della macchina che vedete in foto. In basso, il Flaiano Film Festival torna al Circus. Direttore artistico e regista Riccardo Milani. 25 film proposti alla giuria di spettatori. Andiamo avanti. Anche qui ritroviamo la coppia truffata pescarese nei guai. Carmine Di Felice, 34 anni, sotto accusa per aver sottratto con l'inganno la pensione di invalidità ai coniugi Nadia e Bartolo. Il PM Papali ha chiuso l'indagine della Scuola Mobile. Una vicenda scoperta grazie al programma TV Le Iene. Per la cronaca, falso incidente, scopre e denuncia il raggiro a 85 anni. E poi la sindone di Manoppello, un docufilm, racconta il mistero del volto santo. Prima di andare in provincia dell'Aquila, torniamo dunque in provincia di Pescara, ma a Montesilvano. La polemica, dopo gli allagamenti, la pioggia di accusi, attacco dei Cinque Stelle all'amministrazione Maragno. Che fine hanno fatto i 400 mila euro annunciati l'anno scorso? E questa è una foto del tratto di strada allagato dalla pioggia che è caduta tantissimo in questi giorni e continua ancora a cadere. In basso, sempre a Montesilvano, una corona per i caduti in guerra, cerimonia dell'Associazione Familiari. Poi il congresso che si concluderà domani a San Giovanni Tiatino, due coppie intossicate dopo la cena in assa al ristorante etnico San Buceto. Il posto fisso di Chieti segnala i quattro ricoverati, scatta il controllo, scoperti gravi carenze igienico-sanitarie evidentemente nel ristorante. Ancora altre notizie, spoltori, il comune entra nel progetto dell'alberghiero, la produzione delle birre spiegata agli studenti. Andiamo avanti a Francavilla al mare, platani senza fronde, critiche e proteste. Francavilla, il Conalpa torna a contestare le potature, il comune, i tagli sulla nazionale per motivi di sicurezza. E poi qui entriamo nella pagina dell'area Vestina, fiume d'acqua e fango, paura con le Corvino, sindaco in allarme dopo il violento nubifraggio, allagamenti e strade chiose, due persone bloccate in auto, disagio a Moscovo. Noi vi proponiamo anche delle immagini ieri, proprio più o meno nella stessa area che si riferisca a una frazione Santa Lucia a congiunti. Dunque siamo proprio nell'area Vestina, un vero e proprio fiume d'acqua, quello che vedete, che certamente ha creato dei disagi agli automobilisti e che sicuramente lascerà delle conseguenze, non solo per la viabilità ma anche per le strade e per tutto il circondario. Davvero una situazione incredibile con i mezzi pesanti o meno che fanno davvero fatica anche solo a camminare. E come vedete è una condizione delle strade pessima dopo la pioggia caduta davvero tanta in questi giorni e che purtroppo continuerà probabilmente a scrosci, a cadere, a scrosci intermittenti. Ecco questa altra veramente immagine emblematica. Ripeto, qui siamo a congiunti sempre più o meno nell'area Vestina, è esattamente da dove più o meno, come avete visto, abbiamo preso la notizia del centro che si riferisce a Colle Corvino ma più o meno, come avete visto, la situazione è molto simile. Anche qui vedete le foto che più o meno sono le immagini che vi abbiamo mostrato con le macchine che fanno davvero una fatica enorme. In basso è la gatta De Dominicis, è già sfida, bussi pronti a candidarsi, il sindaco uscente, l'ex presidente della provincia. A Picciano scatta la denuncia, volevano da lei 2.700 euro, ma l'anziana scopre la truffa. Cambiamo adesso, andiamo a Chieti, asili nido, il comune blocca le iscrizioni, l'amministrazione va avanti con la privatizzazione per incassare 1.300.000 euro, ma ci sono solo 5 mesi per affidare le strutture. A centropagina la CGL e così si penalizzano le famiglie, il sindacato denuncia, delibera zeppa di errori, al posto di Chieti spunta anche il comune di Senago. In basso, strade a rischio, l'asfalto sprofonda, emergenza a Chieti dopo la pioggia, ambulanze fanno lo slalom. Tra le buche, vedete, un vero e proprio viene definito cratere, ma non c'è altro modo per definire questa cosa qui che vediamo in foto, perché non può essere una buca, è una specie di voragine. Andiamo avanti, a Lanciano, violenza tra le mura domestiche, picchi ai familiari, il cane allontanato, 28enne, accusato di minacce, maltrattamenti e lesione a sorella, padre e madre, il giudice non comunichi con i congiunti. Altra violenza, vasto, aggredita mentre passeggia sul litorale, vasto, afferrata alle spalle, scaraventata a terra da un giovane col volto coperto da un cappuccio. In basso, una notizia che vi abbiamo proposto anche ieri, Sevel, operai multati nei parcheggi. Adatessa, la sosta interna alla fabbrica è solamente per chi ha un tipo di auto di marca Fiat, PSA e Chrysler. Questa è la grande idea che hanno avuto alla Sevel di Atessa, ovvero parcheggiate solo se avete macchine nostre. Andiamo avanti, ad Ortona, sfila il corteo della Dama, la città bellita di fiori, dalle 16.30 la revocazione storica del perdono di Sant'Ommaso Apostolo, alle 10 apre la pista ciclopedonale che da sotto il castello porta al Lido Saraceni. A Teramo, in Morra, il mio primo impegno sarà garantire i servizi sociali. Il candidato sindaco del centrodestra lancia la campagna elettorale, coalizione ampia e tanti giovani. Tra gli obiettivi la ricostruzione e la revisione dei limiti di accesso alle zone a traffico limitato in centro. Come vediamo, la presentazione di Morra è ovviamente l'apertura del quotidiano. La città centrodestra al voto, prometto dedizione totale e ottimismo. Ieri al San Matteo la presentazione della candidatura sindaco dell'avvocato Gian Donato Morra, la possibile giunta. Il candidato sindaco di Fratelli d'Italia mette il primo paletto. A guidarmi nella scelta degli assessori non sarà il manuale Cencelli, ma solo la meritocrazia. E dall'altra parte però le reazioni poste al vetriolo dell'ex assessore di Stefano sull'assenza del sindaco non basterà tenere nascosto Brucchi, ex sindaco. Allora andiamo a vedere nel servizio la presentazione del candidato sindaco del centrodestra a Teramo, Gian Donato Morra. Un centrodestra compatto ha presentato a Teramo il proprio candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative, Gian Donato Morra. E la presentazione è stata in grande stile con la presenza dei rappresentanti delle sei liste che appoggeranno l'avvocato pugliese Materamano di adozione. Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Popolo della Famiglia, Futuro In e oltre. Ad applaudire Morra c'erano anche i neoparlamentari di Lega e Forza Italia e il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, in odore di candidatura, governatore della regione Abruzzo. Al suo arrivo Morra era visibilmente commosso. Centrodestra unito su Morra. Adesso Morra dovrà però convincere i cittadini terramani. I cittadini terramani hanno il diritto di ascoltare tutte le proposte, non solo di Morra, ma di tutti i candidati. Bisogna parlare, riportare fiducia, un rapporto con le istituzioni, sobrietà anche nel tipo di comunicazione, perché mi sembra che se ne stanno accorgendo in tanti e non riguarda solo la mia persona. Molti candidati stanno cercando di portare nuovi sostantivi a questa campagna elettorale. Sobrietà, dedizione a Teramo, lavoro quotidiano, rispetto delle persone e anche un buon rapporto rivisto della pubblica amministrazione con i cittadini. Il neo eletto azzurro al Parlamento, Nazario Pagano, ha parlato di Morra come il candidato favorito alla carica di primo cittadino di Teramo, anche se dovrà affrontare quasi sicuramente le forche gaudine di un ballottaggio parecchio insidioso. Auspico soltanto una campagna elettorale sui temi corretta perché i cittadini credo che abbiano bisogno di guardare negli occhi i candidati e di capire anche, non solo i candidati sindici, ma anche i candidati consiglieri perché, come avrete visto, ce ne sono tanti, ma ce ne sono tantissimi nuovi. E questo credo che sia la novità di questa campagna elettorale. Giovani e donne nuove che si affacciano per la prima volta e non possono rispondere di cose che neanche conoscono o conoscevano. Un pensiero finale di amarezza a Giandonato Morra lo ha poi riservato all'ascissione interna al centro-destra di Mauro Di Dalmazio che ha scelto di candidarsi da solo. Un gesto incomprensibile, secondo Morra. Un grande dispiacere personale. Da parte mia non c'è stata nessuna rottura. Non l'ho mai capito. Mi dispiace, continuo a dire che mi dispiace umanamente. Però, ripeto, non c'è stata nessuna rottura. Nei miei riguardi, tutte le volte che c'è stato bisogno di un dialogo, da parte mia c'è stato. Andiamo avanti, restando a Teramo, sempre sul quotidiano La Città, strisce blu, lo spiraglio per Tercop e Lati. Il Comune integra il bando, aprendo la possibilità di associazione tra la cooperativa sociale e i privati. A proposito di candidati sindaci per la lista civica, ma nello schieramento ovviamente di estrazione centro-sinistra, Giovanni Cavallari che dice persi 4,6 milioni di fondi per il mercato coperto. Torniamo in provincia di Teramo, sul quotidiano Il Centro. Siamo a Pineto, cade dalla bici, grave un anziano. Incidente sul Ponte Calvano, l'81enne operato al Mazzini per un ematoma al cervello. A Castilenti riempie di botte la moglie, muratore in cella. La donna trova il coraggio di denunciare il marito violento che finisce in carcere. Attraverso il voto, Marcone attacca Ferretti, si è auto-incoronato. Il Delfino di Astolfi suscita le ire della lista civica, crede di aver già vinto e parla dei successi delle superiori, ignorando però le scuole elementari e le medie. Torniamo sul messaggero per vedere le altre città. Siamo all'Aquila, stranieri e rottura. Forza Italia vota con l'opposizione. Poi vedremo quanto le espulsioni che sono state i giorni scorsi hanno preoccupato un po' la città aquilana. Azzurri con la minoranza per allargare il sistema di protezione per i richiedenti asilo ai rifugiati, ai minori non accompagnati. Di spalla Lioce al 41bis, Nadia De Sdemona Lioce, la ricorderete. Proteste al tribunale e al carcere. Poi l'interrogazione. PD e passo possibile, conti in tasca biondi, perché rossi in Russia e i costi del viaggio? In basso, violento schianto, moto contro auto, 17enne e in fin di vita. E poi padre e figlio vicini all'ISIS, segnalati dalla scuola. Andiamo avanti, sempre all'Aquila. Ater, ecco le date degli interventi. Dopo le ultime polemiche, il consigliere regionale e presidente della commissione territorio per Paolo Pietrucci, detta i tempi, pubblicazione delle ultime 24 gare entro i prossimi tre anni, per concludere i lavori su tutti i 422 alloggi del patrimonio. Ad Avezzano, batteri e sporcizia all'ospedale. Parte lo screening dell'Asle, l'indagine ha interessato tutti i reparti del nosocomio marsicano a tutela dei pazienti. A carcia delle insidie, che fino al 17% dei casi possono incidere negativamente sulle cure. A Chieti il Marruccino entra nella storia con gli eventi del bicentenario teatro scelto dai presidenti regionali per celebrare oggi l'assemblea regionale. Il caso Stazione Sottopassi in Centro, Marinucci, non c'è assenso. Siamo a San Giovanni Teatino. In basso, quattro intossicati dopo la cena al ristorante cinese, cucine da incubo, mutuando un famoso programma televisivo, due coppie in ospedale, blizze nei nas, certifica gravi carenze igieniche. San Salvo, Pilkington a rischio, il posto per 800, tanti potrebbero essere gli esuberi da qui a due o tre anni. Grido d'allarme dei sindacati nella follata assemblea di ieri, incertezza sugli investimenti e la concorrenza cinese. Ieri in Germania e della NSG in Polonia alzano la tensione. Chiese aperte, Lanciano scopre i suoi tesori d'arte. Andiamo avanti perché Lido vince al Tarora il risarcimento, il Comune voleva togliere la concessione al Costa Verde per i canoni non pagati. Il titolare sarà Marco Marà che si è opposto. Il verdetto, provvedimento annullato perché non è stato preceduto da un congruo termine per poter controdedurre. Siamo allo sport ma prima di arrivarci torniamo sull'Aquila perché Inni sulla guerra santa su Whatsapp. Marocchini espulsi, messaggi anche sul gruppo dei genitori della classe frequentata dal figlio minorenne. E sale ovviamente l'allerta terrorismo. Altra notizia di cronaca, Luco De Marsi disabile, spogliato e terrorizzato dai bulli. 18 anni più volte umiliato in un parco. Azioni filmate con i telefonini e poi diffuse. In basso processo alla Lioce, tensione in aula. I sostenitori della brigatista volevano cacciare un fotografo. Udienza a settembre con due testimoni. Siamo allo sport. Oggi al Piola, Pescara fuori gli attributi a Novara senza fare calcoli. Basta un punto per la salvezza ma Pilon non si accontenta. Voglio uomini. Dall'altra parte Di Carlo invece, pescarese mancato sulla strada della salvezza. L'allenatore del Novara a dicembre ha sfiorato la panchina dei biancoazzurri. Maniero, l'ex recupero e parte all'inizio. In campo gli ex frentani Casarini e Tröst. Vediamo allora il Pescara che dovrebbe riproporre la formazione vista martedì contro il Cesena. Fiamozzi e Crescenzi ai lati di Perrotta e Graviglion. Davanti a Fiorillo ovviamente. Brugman con Maccina e Valzania. Capone e Mancuso ai lati di Pettinari. Per quanto riguarda invece il Novara. 4-4-2 Montipò tra i pali. Golubovic altro obiettivo nell'estate scorsa del Pescara e Calderoni sulle fasce. Tröst e del Fabro centrali. Sec, Schaudone, Casarini e Dickman a centrocampo. Maniero e Moscati. Davanti non c'è Federico Macheda per il Pescara. Andiamo anche sul messaggero. Messaggero Pescara a chiudere la pratica salvezza. Oggi a Novara ore 15. Pillon vuole battere il ferro finché è caldo. Dopo la serie positiva dobbiamo puntare sempre al massimo. E oggi non sono ammessi cali di tensione. Di Carlo senza, come detto, Macheda punta sull'ex Maniero. E allora andiamo già ad ascoltare quello che ha detto ieri in conferenza stampa. Il tecnico dei Biancazzurri. Il tecnico dei Biancazzurri. Giuseppe Pillon. E' una partita molto tosta. Nel senso che loro si giocano molto contro di noi. Perché chiaramente la posizione di classifica che hanno è quella. Perciò se noi non scendiamo in campo con capabilità, essere tosti, quadrati, sapere che ci aspetta una partita molto vigorosa, andiamo incontro dei guai. Noi dobbiamo andare in campo con grande aggressività, con grande determinazione. cercando di pressarli subito, togliere le loro certezze. Perché se no, il campo è anche insidioso. Perché il campo è in erba sintetica, la palla non balza bene. Non dobbiamo fare l'errore che abbiamo fatto a Vercelli. Dove i primi dieci minuti siamo tanti un po' sotto tono. Non ci siamo adattati al campo. E quei dieci minuti ci sono costati i cali poi per il proseguo della partita. Noi non dobbiamo commettere quella. L'approccio deve essere giusto. Se no, diventa una partita molto difficile. Secondo me, se ci mettiamo in testa che basta il pareggio, andiamo lì e è già sbagliato. La mentalità deve essere uguale a quella che abbiamo sempre fatto le partite che ho messo sotto la mia gestione. La stessa mentalità. Siamo andati a Palermo, ce la siamo giocati. Siamo andati in qualsiasi campo, ce la siamo giocata. Un grande equilibrio, con determinazione. Però non pensiamo mai a calcolare niente. Non abbiamo mai calcolato, neanche quando eravamo nei momenti di grande difficoltà. Non dobbiamo farlo adesso, né più che mai. Pensare che abbiamo tre partite, adesso pensiamo a questa e cercare di raccogliere il massimo su questa. Non abbiamo Cocco e Mazzotta che sono infortunati. Come mai? Caviglia per Mazzotta e Polpaccio per Cocco. È una squadra giovane di prospettiva. Secondo me, se dobbiamo centrare l'obiettivo prima possibile, chiaramente, perché dobbiamo centrarlo, però ha dei margini di miglioramento enormi. Però domani è la dimostrazione se siamo una squadra con le palle, se siamo una squadra che va lì e sono tosti, perché sono queste le partite che si misurano gli uomini. Si misurano le capacità della squadra. Si misurano quando sei in queste situazioni. È qui che si vede. Perciò domani è un banco di prova per me molto importante da questo punto di vista. Io e Mario Cocco che ho poco tempo, non ho avuto tempo di lavorare sui particolari, perché giocando così spesso, noi abbiamo fatto in 28 giorni, guardavamo ieri, mi ha fatto solo due giorni di riposo. Cioè abbiamo sempre lavorato tutti i giorni. Siamo sempre stati sotto pressione tutti i giorni. Cioè io sto lavorando per questo. Io sono venuto qua, ho detto subito all'inizio, voglio dimostrare di essere all'altezza del Pescara. La prima cosa che ho detto è stata questa. Io spero di concludere questo cazzo di salvezza del prima possibile. E così poi tutti i discorsi si può fare. Quello che volete tiriamo fuori. Ma raggiungiamo l'obiettivo. Quanta che avrebbe molto valore. No, raggiungiamo l'obiettivo tutti assieme, perché questa è la cosa principale. E' chiarissimo, chiarissimo. Baby Pillon. Questo pomeriggio alle 15, ovviamente, Novara Pescara. Noi saremo in diretta dalle 14.30 con Diretta Stadio. Continuiamo la lettura delle ultime notizie. Rimanendo sul messaggero, Platini diventa golfista a Migliani, con l'eroa versione golfista. Adesso di tempo ne ha per giocare a golf Platini. Cambiamo pagina, scendiamo in Serie C. Teramo vincere per sperare ancora. Il portiere calore, nessuno si aspettava di trovarci nei play-out. Dobbiamo battere la reggiana. Chiediamo aiuto ai tifosi del Bonolis. Altre notizie. Per esempio il basket Roseto, un successo storico frutto delle rotazioni di squadra. Quello di giovedì sera in gara 2 del play-out contro la Virtus Roma di Paolo Antonio. A Roma per giocarcela alla pari per la MotoGP. non è a Erez, sento che posso fare molto bene. Dopo il podio, ho ritrovato l'asso di vasto nella top 5. Torniamo sul centro. Anche qui il Teramo che forse torna alla difesa a 4. Domani i biancorossi condannati a vincere. Il portiere calore, colpa nostra, dice, se ci siamo ridotti in queste condizioni. Cambiamo pagina. Serie D, la Venzano pensa al turnover. Domani ultima giornata della stagione regolare. Per il karate, abruzzesi ambiziosi ai tricolori di karate a Ostia. E per quanto riguarda il Teramo, altre, anche qui sulla città, il Teramo e la difesa a 4 lasciata a Pordenone. Domenica schieramento con due centrali e due terzini che il Diavolo abbandonò dopo il primo tempo al Bottecchia. Nell'intervallo della sfida con i neroverdi, eravamo all'inizio campionato, Asta e Zichella, allora suo vice, decisero di passare alla difesa a 3. E il neotecnico, che era vice ma adesso è allenatore della prima squadra, rispolvera questo assetto per l'ultima. Di campionato, questa era l'ultima notizia per Mattino 6 che torna lunedì, ovviamente io vi ricordo i nostri appuntamenti alle 14, la prima edizione del telegiornale. E poi dalle 14.30 diretta a Stadio per seguire insieme Novara Pescara. È tutto, buona giornata. Grazie a tutti.